Salve e bentornati su SaiChe Web TV. Il nome del nostro canale nasce dal nostro primo programma SaiChe. Fatto di video e servizi informativi nel nostro territorio, valorizzando cultura, tradizioni e curiosità in generale. SaiChe Web TV. Riprende dopo pandifermo i video e servizi, ma a piccoli passi e con grandi progetti. Per far parte dei nostri progetti o per ulteriori informazioni, chiama o scrivi al 330 58 99 60. La nostra sede è a Castellana Grotta in provincia di Bari. Pertanto seguiteci sui social e SaiChe puoi interessare o coinvolgere anche te.